Eccomi qua, ok, allora io sto andando alla prima... ma perché? Sì, ecco, ho guardato, maledetto il telefono! Allora, io comincerei a buttare dentro lo yogurt dove ho già messo dentro la metà del cocco per chi fa la versione al cocco, invece chi fa l'altra versione solamente agrumi, ovviamente non mette il cocco, ok? Se uno vuole mettere lo stesso il cocco, allora che faccia quel cazzo che gli pare, ok? Ecco, scherzato, dai, comunque adesso pian pianino, mettiamo così pian pianino, ovviamente io sto usando lo yogurt che mi sono fatta io con la yogurtiera, perché sono in dieta, la vita è una merda a volte! Ecco, mettiamo dentro anche il cucchiaino, tacchete giù, un attimo che prendo il lec a pentola, il lec a pentola, lec, e tiro più bene. Allora, io lo yogurt lo sto facendo con il latte parzialmente scremato, ovviamente perché... eh, 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 allora, sennò che senso ha la mia dieta? E se voi volete che siete un po' più snelli di me, potete... scherzo, se volete potete farlo anche con lo yogurt intero, lì, c'è, credo ci siano la differenza di... non tantissime calorie comunque sia, no? Boh, chi vuole può farlo anche con il latte di soia, eviterei il latte di mandorle e cose varie per il semplice fatto che poi gli dà un altro sapore, questo deve avere un sapore un po' particolare, se gli si va a mettere dentro... ecco, magari anche un latte d'avena, eh, c'è un latte che stia più sul neutro, invece nel nocciola, eh, sono già un po' più saporiti. Allora, un attimo che provo. Ah, aspettate, ne? Ci sono state termiche, vediamo se riescono a far danni. Uè, non l'ho mai più per le riprese, ne? Ok, si vede, marca la peppa. Vediamo un po'. Vediamo una mano ogni tanto. Un attimo che misuro la temperatura, aspettate che tiro fuori un attimo il termometro. Ecco, vedete il mio termometro? Pagato l'ira di Dio. Voi non avete idea di cosa ho pagato sto termometro? No, perfetto, va molto bene, devo dire. Molto, molto bene. Scusate, ho i braccialetti, ma cosa vi devo dire? Io non voglio toglierli, perché sono un assassino. Riavviamo, ok? Eccoci. Niente, adesso aspetta un attimo, poi vi faccio un altro video, se no abbiamo stato qua 6 ore, non so neanche cosa dirvi. Se volete vi posso raccontare come ho fatto stamattina. Sono andata a pagare il bollo, sono andata a ridare indietro la saponetta, quella del, non la saponetta per lavarsi, mi lavo grazie al cielo. La saponetta quella in wifi portatile, in poche parole, perché ho tanti altri giga, ma vedo che non mi interessa più niente. Ci vediamo dopo, ciao.